fantastico gli hamburger stanno cuocendo a dovere farò una sorpresa incredibile a baby faccia ragazzi guardate che buoni ho messo vabbè ovviamente la salsa ho messo il pomodoro l'insalata e il ma quello è pollo vabbè dettagli dai per fare un buon hamburger ci vuole il pollo eh ancora non sono cotti a dovere cavolo ma sono già le due devo andare a prendere quel monello di baby faccia baby faccia ma che cavolo ma che cosa ma perché è tutto blindato qua che sta succedendo che sta succedendo qua dentro baby faccia mi senti baby faccia sono venuto a prenderti baby faccia dove sei non riesco a vedere nulla ma dove cavolo aspetta forse qua c'è un'entrata ma è tutto è tutto completamente blindato come se fosse una casa abbandonata ma che cavolo sta succedendo mio padre puzza vabbè io io lo ammazzo giuro che lo ammazzo uno di questi giorni eh baby faccia baby faccia ma non riesco a vedere niente non c'è nessuno ma dov'è quel monello dov'è ma vedo qualcosa ma è lì ma ragazzi lo sta dormendo la mozzarella di bufala ma che cosa sta facendo sta dormendo baby faccia che cosa stai facendo lì sta dormendo guardatelo sta dormendo baby faccia buongiorno stati uniti svegliati stati uniti d'america sono qua ciao ma che cavolo fai là dentro ma scusa che ci fai tu lì fuori entra qui non posso entrare non posso è tutto blindato non vedi è vero ma è tutto bloccato anche le fine che cavolo è successo che cosa hai fatto che cosa hai combinato ma io mi ricordo solamente che mi sono addormentato durante la lezione di quel vecchio del professore ma sei proprio stupido ma che cosa ma è un cantiere ma che cosa è successo hanno blindato la scuola l'hanno chiusa hanno fallito nell'insegnamento ci penso papi dovevano fare dei lavori muratori cosa dovevano fare dei lavori di ristrutturazione ma te l'avevano detto me l'avevano detto io ti ammazzo io ti ammazzo fammi entrare ma è possibile se hanno fatto i lavori hanno iniziato a fare i lavori muratori e ti hanno lasciato lì dentro mentre dormivi ma come sono messi eh magari non mi hanno visto io mi sono addormentato calma 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 allora io comunque sia stavo cuocendo gli hamburger papà dammi l'hamburger non posso ci sono le finestre avevo accesso il grill là avevo accesso il grill e volevo farti una sorpresa mangiando hamburger però non possiamo perché tu sei qua dentro metti una bomba metti una bomba non posso far esplodere la scuola allora dammi un attimo devo pensare a come fare ci sarà un modo per farti uscire da qua eh puoi scavare un tunnel segreto posso scavare un tunnel oppure potrei lasciarti lì per il resto della tua vita e divertirmi finalmente potrò divertirmi senza averti fra i piedi allora fammi uscire di qui bruttozzazzo dammi un attimo sta zitto e porta rispetto dove sei sono qua qui allora tu rimani un attimo lì e io penso a come fare intanto mi mangio questo buonissimo è cattivo io lo voglio bevi faccia prova a romperlo con la testa con la testa assolutamente dagli con la testa bravo rompi rompi ti sei fatto male uno due uno due vabbè lascia perdere dai terminator troverò io un modo per farti uscire ok ti prego sbrigati si si mi vado a prendere un attimo un caffè eh mamma me ci deve essere un modo per far uscire mio figlio ci deve essere un modo sicuramente c'è un modo salve lei chi è scusi il bidello per caso è qualcuno dei lavori ascolti mi servo una mano mio figlio è rimasto dentro la scuola lei ne sa nulla ah si se ricordo bene facevano i lavori e oggi per caso c'è qualcuno là dentro si ho detto che c'è mio figlio si sente ho detto che c'è mio figlio ascolta non c'è bisogno più urlare ti sento bene maleducato mi scusi mi scusi lei chi è comunque io sono il bidello della scuola abito proprio qua fuori li vede questi bidoni quello verde il bagno quello giallo la camera da letto è come un hotel a 5 stelle sto veramente bene ragazzi questo è completamente fuori di melone ma che cosa i bidoni hotel 5 stelle vabbè ok ascolti visto che lei è il bidello saprà non so un modo per aprire la scuola un passaggio segreto vabbè insomma dobbiamo salvare mio figlio mi aiuti per favore è rimasto là dentro tutto da solo d'accordo johnny ti aiuterò ma solamente ad una condizione io non mi chiamo johnny mi chiamo bella fazza però mi dica mi dica lo vedi quel tombino i miei occhiali sono caduti là dentro recuperali e ti aiuterò a salvare tuo nipote non è mio nipote è mio figlio vabbè lasciamo perdere va bene entro qua dentro ok un patto però è un patto ma fa attenzione là sotto sono le foglie della scuola sono piene di vomito di bambino di caccole e altro cacca forse mamma mia che schifo vabbè lo farò per mio figlio vabbè non è che ci sarà dai così tanto schifo mamma mia che schifo la cacca che schifo che schifo no devo farlo per mio figlio devo farlo per mio figlio questa è pipì radiattiva di bambino che schifo che schifo sono sopra la cacca sono sopra la pipì qualcuno venga ad aiutarmi qualcuno venga ad aiutarmi oh mio dio oh mio dio devo recuperare gli occhiali là addirittura c'è un cadavere oh mamma mia ma questi bambini che cosa mangiano la pipì è radiattiva fa male oh mamma mia queste sono le foglie della scuola sto camminando sopra la pipì di mio figlio oh mio dio la cacca che schifo aiutatemi ma dove cavolo sono finito dove sono quegli occhiali dove stracacchio sono quegli occhiali forse qua da qualche parte qua da qualche parte eccoli gli occhiali ho trovato gli occhiali ragazzi gli occhiali mettiamoli su ok potrei tenermeli sono veramente belli eh che schifo ma sto nuotando nella cacca e nella pipì ma chi era questo qua mamma mia non voglio fare questa fine ma perché le foglie sono così disgustose aglio che schifo che schifo che puzza mamma mia ma c'è anche un insegnante là dentro ovviamente io dormo qua dentro perché le operazioni e le addizioni non vanno in vacanza ma qui sono tutti fuori di testa ascolti eh ho recuperato gli occhiali ottimo lavoro Jonathan così ti volevo dammi quegli occhiali e tieni questo piede di porco non mi chiamo Jonathan vabbè lasciamo perdere dai dammi il piede di porco forza ma non mi chiamo Jonathan vabbè lasciamo perdere dai dammi il piede di porco forza ok grazie mille grazie riuscirò finalmente a salvare mio figlio e buona continuazione nella tua casa ciao Bidello Strambo mamma mia ragazzi questo qua è veramente Strambo eccomi ecco il tuo salvatore eccomi sprilla di puzzone ok me ne vado no no scusa come si dice come si dice sprilla di puzzone ok ciao me ne vado no papi ti prego come si dice come si dice per favore poi poi mio mio supremo supremo signore si minchino di fronte minchino di fronte al big mac vabbè dai lasciamo perdere spacco tutto oh oh mi ammizzo in apoli eccoci sei libero ai 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 ma ecco ti sto piede di porchetta come osi come osi ringraziami che t'ho salvato vieni qua si mamma mia forza torniamo a casa t'ho liberato non t'azzardare mai più io ti spacco tutte le ossa hai capito se ti rimetti a dormire durante i lavori in corso della scuola ok però mi gira un po' la testa dai tieni mangi un po' avrai mangiato che che avrai mangiato qua dentro solo coca cola e libri carta hai mangiato solo quello no no non ho fame dai mangia mangia quel panino che l'ho cotto da un giorno su cosa sei dai mi sento un po' male dai vieni vieni a casa forza dai baby faccia ok vieni qua su torniamo a casa arrivo finalmente siamo tornati a casa adesso puoi giocare alla tua xbox vieni qua dentro forza ok non riesco a camminare bene ma come non riesci a camminare bene forza sei stato a scuola non ci voglio stare qui ma cosa stai tranquillo stiamo a casa dai mettiti a dormire un po' no io non vengo qui fatti una doccia che puzzi dai ho acceso l'acqua che costa io non entro in casa muoviti ma guardate devo spegnerla entra su aiuto ma è brutto ma come è brutto cosa sai siediti un attimo riposati mi viene un po' da vomitare no 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 mamma mia che schifo bentornato a casa eh baby faccia bentornato a casa aiuto mi devo sdraiare sdraiati dai sdraiati un attimo no sdraiare vai a dormire su vai a dormire su aiuto ma che succede vai a dormire forza dai ok ti lascio qua eh tutto ok mamma mia non vuoi sicuro che non vuoi il panino no vai via ah ok ti lascio qua eh mamma mia poverino rimanere rimanere chiusi a scuola per tutto quel tempo eh deve essere difficile aiuto oh che 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 dove vai baby faccia aiuta dove vai dove vai che succede aspetta quella casa cosa quella casa cosa ma perché dove stai andando io me ne vado non tornerò mai più baby faccia baby faccia sei qui baby faccia eccoti cosa vuoi che ci fai a casa mia a casa tua in che senso esci di casa ma come esci di casa ma che è sto posto ma chi è questo io vivo qui questo è il mio amico si chiama Beltrollino Beltrollino salve Beltrollino ah che schifo cos'è sta roba questo è il mio gabinetto ma mi stai prendendo in giro torna a casa questa è la mia camera da letto torna a casa forza vai via da casa mia aio fermati calmati perché casa tua ma questa non è una casa perché vuoi stare qua io vivo qui negli spazi aperti ma perché perché non soffro a stare chiuso in casa ok soffri a stare chiuso in casa sì sono lustrofrubrico no claustrofobico claustrofobico no claustrofobico vabbè guarda ti posso io veramente ho fatto tutta questa fatica per farti uscire da scuola e adesso questo guarda ti voglio dare un premio seguimi sì seguimi silenzio seguimi babyfazza guarda dove ti ho portato questo è un passaggio segreto magico per tutte le caramelle al gusto di patatine fritte a me non piacciono il gusto di patatine fritte eh volevo dire al big mac al big mac ma dici veramente vai 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 lì dentro sono tutte lì e restaci 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 per sé sto morendo sto morendo nella foglia papà sì 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 oh che è successo che è stato sto suono babyfazza tutto ok babyfazza vabbè quel che finisce bene finisce forse ciao 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 ciao